amici videogiocatori bentornati sulle pagine di spazio games la notizia in questi giorni è stata praticamente dappertutto e ci suona difficile credere che non ne abbiate sentito parlare anche voi ci stiamo riferendo alla super league il campionato che 12 squadre fondatrici volevano proporre come praticamente il nuovo evento imperdibile di elite del calcio di altissimo livello sappiamo che secondo gli aggiornamenti di queste ultimissime ore il progetto è naufragato dopo l'uscita in blocco delle squadre inglesi ma ci sono alcuni elementi molto interessanti che ricollegano l'esistenza della super league ai videogiochi che ci crediate o no non stiamo parlando meramente delle questioni di licenze dei rapporti tra uefa fifa electronic arts e conami ma stiamo parlando proprio del modello a cui gli fautori della super league guardavano per cercare di far avere successo al loro nuovo format intervistato dal quotidiano la repubblica infatti andrea agnelli noto per essere il presidente della juventus e per essere vicepresidente della commissione che ha messo insieme la super league ha dichiarato che l'intento dei fondatori era quello di trovare un modo di interpretare proporre il calcio che potesse interessare i giovani al punto tale da strapparli dalla loro passione per i videogiochi nelle parole di agnelli i più giovani vogliono vedere i grandi eventi sono meno legati agli elementi di campanilismo il 40 per cento di coloro che hanno tra i 16 e i 24 anni non ha interesse nel mondo del calcio secondo agnelli insomma le giovanissime generazioni in futuro non saranno grandi appassionate di calcio e questo porta praticamente questo sport a questi livelli con queste spese ad avere stampata in fronte una data di scadenza perché questo perché i giovani sono presi da altre passioni l'intervista di agnelli prosegue andare a creare una competizione che simuli ciò che fanno le piattaforme digitali significa andargli incontro e fronteggiare la competizione di fortnite o call of duty che sono i veri centri di attenzione dei ragazzi di oggi abbiamo fiducia nella bontà della nostra iniziativa secondo agnelli quindi era fondamentale proporre un format che fosse in grado di attirare l'attenzione dei ragazzi che invece preferiscono seguire eventi live e tornei ma magari su fortnite e su call of duty non sono legati alla questione di campanilismo che citava per cui magari sentono fortemente una partita contro una determinata città non si tratta di un riferimento isolato pochi giorni fa florentino peres presidente del real madrid e anche della super league a ciringhito tv in spagna aveva parlato dell'idea addirittura di accorciare i tempi della durata delle partite rispetto ai 90 minuti classici perché i giovani abituati più un approccio alla twitch a eventi completamente diversi troverebbero noiose le partite da 90 minuti insomma è molto curioso notare come la super league per cercare di nascere di trovare la sua identità abbia guardato anche e soprattutto ai videogiochi per capire come cercare di parlare con i giovani vedremo se questo progetto tornerà in futuro in caso se lo farà ancora una volta guardando ai videogiochi come sempre sulle pagine di spazio games vi riporteremo tutti gli aggiornamenti su fifa pass football manager e qualsiasi altro utilizzo delle licenze calcistiche all'interno del mondo dei videogiochi quindi non perdete di vista il nostro sito vi ringrazio per aver visto il video fino a qui io sono stefania e vi do appuntamento presto sulle pagine di spazio games per altre novità rigorosamente a tema videoludico a presto ciao 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 ciao